Dopo la qualificazione in Eurocup, l'acqua chiara affronta il Savona alla piscina a Scandone. Al nostro microfono le interviste e la voce dei protagonisti. Si. L'esporto di Pesquina. Piensa che in un momento che era una scuola. E poi in un momento che era una scuola. E poi direi un impegno al vostro tenis in situ, anche di una paella, facendo una altidetta, diversa e una altatura o un conto del Savona. Si. Diciamo che un impegno al Chilio, che poter esparcirne sempre, se va a una rama. Poi i reti non possono avere una volta migliore, erano un po' iniettivo, un po' iniettivo. Tuttavia erano un po' iniettivo, un po' iniettivo, un po' iniettivo, un po' iniettivo e un po' iniettivo. Abbiamo reggito un po' iniettivo, un po' iniettivo, un po' iniettivo, che sarebbe sempre una patrò dove esiste. E' un po' iniettivo, un po' iniettivo, un po' iniettivo. Una tripletta contro la Canottieri, una tripletta questa sera contro il Savona. Antonio Pektovic regala un'altra vittoria alla Quagliara. Sì, abbiamo giocato con pazienza fino alla fine tutta la partita e questa è una mia vittoria. La nostra squadra va avanti e tutto a posto per adesso. Dopo le belle prestazioni in Coppa, il campionato regala ancora soddisfazioni. Ho avuto un po' paura perché siamo un po' stanchi di tante partite, ma alla fine sono molto contento con questa importante vittoria. Dove può arrivare quest'anno la Quagliara? Ma secondo me possiamo giocare, lottarsi contro tutte le squadre, tranne Recco e Brescia, secondo me che sono veramente un altro livello, ma a casa si può giocare, spero, pure contro loro. Punteggio mai messo in discussione, la Quagliara con Pektovic e Perez di tripletta in tripletta. Si aggiudica anche un'altra gara importante contro il Savona. Non sono d'accordo perché il Savona ha fatto per me un'ottima partita sul piano della fisicità, ci credevano, ci hanno impattati anche dopo un parziale di 2-0 se non sbaglio per noi. Poi è stata sempre in partita, devo dire l'aspetto positivo della squadra che ha riconosciuto anche il valore dell'avversario, quindi ha dato continuità al gioco. L'arbitaggio è stato attollerato, secondo me è un gioco molto fisico, l'importante è riconoscere anche in questo metro di valutazione e adattarsi, perché stiamo lavorando molto anche sul lavoro proprio difensivo a pressing e la squadra ha risposto molto bene. Alla vigilia forse timevi un calo di concentrazione? No, perché i ragazzi stanno lavorando molto bene, anche dopo la Coppa comunque c'è partecipazione, il problema può essere solamente in partita, se pensiamo di essere un po' troppo bravi e non apprezziamo l'avversario si corre il pericolo, però a livello proprio di lavoro stanno continuando a lavorare, oltretutto abbiamo una serie di partite molto ma molto difficili. Un chiaro messaggio anche per il posilipo, ci sarà il derby il 3 dicembre? Ma guarda, io lo dicevo prima, io stasera ho visto un bel posilipo, nonostante tante essenze, i ragazzi hanno dato proprio l'impossibile, quindi il cuore e l'anima. Secondo me va sostenuto questa squadra, oggi più che mai proprio da un punto di vista psicologico, far sentire l'affetto, sono ragazzi che lavorano, sinceramente vorrei batterli sempre, ma non è questo, è proprio per la storia del posilipo, credo che in questo momento sia importante superare un po' tutte le problematiche. Ringraziamo di cuore Paolo De Crescenzo e complimenti per la vittoria.